Nell'anno in cui ricorre il quarantesimo anniversario della 194, l'approvazione a Verona di una mozione contro l'aborto votata in Consiglio Comunale anche dal capogruppo PD riaccende i riflettori sull'applicazione della legge sull'interruzione volontaria di gravidanza che ogni donna entro i primi 90 giorni di gestazione può richiedere per motivi di salute, economici, sociali o familiari, sotto i riflettori soprattutto il tema dei ginecologi, obiettori di coscienza, un tema centrale anche in Emilia Romagna mentre calano gli aborti in regione con 558 interruzioni volontarie di gravidanza in meno tra il 2016 e il 2017 l'ultima relazione dell'assessorato regionale alla salute relativa ai dati del 2017 registra un 50,5% di obiettori in media da Piacenza e Arimini più della metà dei ginecologi dipendenti dalle varie aziende sanitarie sceglie di non praticare l'aborto una cifra in leggera crescita rispetto all'anno precedente quando questa percentuale si attestava al 49,8% i dati nazionali, si legge nella relazione, sono decisamente più elevati e toccano anche quota 70% ma dei picchi si registrano anche in Emilia Romagna al Policlinico Sant'Orsola la percentuale dei ginecologi obiettori supera l'80% su 36 ginecologi in servizio nell'azienda 29 risultano obiettori nel 2016 la percentuale era del 70% a seguire il Sant'Orsola e il Sant'Anna di Ferrara con il 69,2% di medici obiettori mentre fino al 2016 si attestavano al 30% segue l'Ausla di Piacenza dove la percentuale è consolidata nel tempo 66,7% di ginecologi obiettori la sanità regionale è efficiente anche nella prevenzione, dice la consigliera regionale Roberta Mori l'obiezione di coscienza coinvolge una delle percentuali più basse del paese ma l'impegno che ci deve ispirare è impedire che possa interferire con i diritti e la salute delle donne grazie a tutti